e pura vida ragazzi benvenuti nuovamente su wolfenstein continuiamo questo avventuroso adrenalinico gioco dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo dove sapete che sono arrivati gli zombie sono finalmente finalmente sono arrivati gli zombie a rompere le palle non posso scendere da questo coso io no ok ma abbiamo un robotone adesso paura di niente posso e quindi ah ma dimmelo prima che posso scendere no peggio arma di merda ok dicevo non sapevo che potevamo scendere se non lo facevo prima stavo proprio cercando come scendere a dire la verità e comunque dicevo sapete che sono arrivati gli zombie finalmente a rompere il cazzo anche qua e prepariamoci a quello che sia che sta per succedere allora ho visto già che se ti prendono allora qua non puoi entrare con lui col robot quindi per forza di qua non è quindi ok torniamo al letter letter bot in una roba del genere non salta sta merda non mi è chiara la cosa cosa vuoi da me non ho capito cosa vuole il gioco ah niente di difficile voleva che ci facessi caso vabbè abbiamo risolto andiamo avanti nel dubbio amico allora a ver lo detto prima e così te li togli di dosso non Please, levati dal cazzo. Due per uno pizza. Levati. Levati. A quanto pare c'è da scendere. No problema. Tanto. Non trovo tonaco za nascosto. Oh. Non ho capito perché rompono il cazzo a me, ma... Non ho fatto nulla a nessuno io, ma vabbè. Sono infiniti, quindi tanto vale che... E vatti dalle palle. Cos'è stato quell'esplosione? Un caso? Sono stato io? Sarò stato io, magari? Avrò fatto scoppiare un barile? Questo perché si può salire? Cosa c'è di nascosto qua sopra? Io avrei messo dell'oro, ma vabbè. Mi serve la chiave. Ok. Chi ha la chiave? Qualcuno qua ha la chiave? Si apre dall'al... O la chiave è... Violenza. Vai via. Mi senti, signor BJ? Ti sento, Ned. Cosa vuoi? Va bene. Fai quel cazzo che vuoi, dai. Non mi interessa, dai. Fai quello che devi fare, non rompere le palle. Scusate, mi stavo starnutendo. Levarci dal cazzo. Un bel cazzo. Un bel cazzo. si apre altrove dice vai vai via permesso levati dalle palle ok fino a qua ci siamo ci serve il robot ok bene sto neanche a domandare dai però rompermi le palle esci dal livello ok ah usiamo il robot per farci da rampa no sbuttare giù col robot sta roba no vero non è che non ce la fa vero questo è un cimitero Blaskovic bene potevamo farlo tutto nell'ultimo episodio andiamo avanti va potevamo fare tutto perfettamente insieme non pensavo fosse così corto come capitolo io sono molto vivo ragazzi ragazzi sapete il solito la solita manfrina se ce la faccio stiamo guatti insilenziosi non riesco si richiede violenza ovviamente che cazzo è che cazzo è nota dell'archeologo del SS Randolph frau lui giurisco di scavare una galleria nella zona nord ovest del cimitero vari indizi mi portano a pensare che potremmo trovare un accesso al complesso sotterraneo di Re Ottone procedendo in tale direzione dovremo scavare in grande profondità e avremo bisogno di molta più manodopola per costruire montacarichi rotaie condotti delle città e così via quando ha tempo la prego di venire a discuterne Randolph Dario di Elga non c'ho voglia non c'ho voglia dobbiamo andare di là c'è ok sto giro non è andata male andare furtivi ce la siamo cavata bene hai sbloccato la sfida ci mi muori in silenzio qua serve fare silenzio o fanculo non c'ho non c'ho non c'ho No Ok non doveva andare così ma accetto Non ci lamentiamo ecco Ah che bravi che siamo subito No cos'è Ah un'arma ok niente Vamos Dove stiamo andando Già Uh c'è un'altra Un'altra Eh però mi vede questo come facciamo È sfiga O è cieco Non mi vedi dai non mi vedere Vai via dai non mi vedi Vai bravo Bravissi Grazie Ok Vuoi mica che mi veda qua? No dai non mi vede Lo sappiamo tutti che non mi vede dai No dai non mi vede Ok a lui di vedere gente morta non gliene frega niente In sostanza Gli appunti li abbiamo letti prima Ok insomma Lui adesso passerà di qua Appena lui passa noi scendiamo E continuiamo la strada no? E qua c'è da telare mi sa Vai a prendertelo vai Bravo Nota del caposquadra Siamo riusciti a rimuovere i massi con la dinamite Come temevo La parte di pietra che conduce alla cripta è rimasta danneggiata Dalla crepa è fuoriuscito un gas verdognolo È inodore Curioso Aspetteremo Elga Alcuni degli uomini parlano di una maledizione Dicono che non dovremmo essere qui Frizz è morto nell'esplosione Una pietra è caduta dalla volta della caverna Schiacciandolo Tragico Gli uomini sono sempre più irritabili Li sento urlare mentre scrivo queste righe Dovrò occuparmene immediatamente Dal bom Una cosa Perché mi sa che qua posso Non chiedo collateral ma Qualcuno ce lo portiamo a casa da qua Muori Vai Cintura porta granate Cosa vuol dire che ne posso portare di più Vai via Stai di Stai di Stai di Stai lì Vabbè ma non è vale così Scusami Ups Hai altri problemi che guardare me sai Hai problemi molto più grandi State lì Non vi voglio neanche vedere Non vi voglio neanche vedere Ok Ok là c'è un altro coso d'oro ragazzi ma Oddio Non pensavo di cadere Vabbè comunque Tuffandosi Ci arrivate Ecco Se siete stronzi come me Andate giù come un pero Ecco Non giudicatemi Dai Elga che abbiamo un conto in sospeso Qui e te Non vi voglio neanche 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 Cosa esce da lì 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 Ok Ok si è un sopravvivi Fino che non si apre la cazzo di porta Quello non è morto Quello non è morto Ragazzi Ragazzi Io non vi do fastidio Dai Nota dell'archeologo Nota dell'archeologo Mi sono coperto la bocca Mi sono coperto la bocca con uno straccio Per evitare lo strano gas verdognolo Ma mi è entrato comunque nel naso Lasciandomi una sensazione di bruciore Entrando Sono stato preso da un senso di timore reverenziale Che impresa incredibile Che impresa incredibile costruire una sala così grande Nel cuore delle montagne Sembrava non avere fine Qui deve esserci sicuramente nascosto un tesoro Un magnifico tesoro di incredibile valore storico Inoltre ho notato che il terremoto Ha rilasciato un gas non identificato Attraverso alcune crepe nel terreno Di fronte all'ingresso C'è una sorta di meccanismo Vi sono incisi dei simboli Gli stessi riportati sulla mappa Recuperata dal paziente di Elga Forse controlla l'apertura del fondo della fossa La mappa è in mano a Elga Quindi non posso ancora verificare questa ipotesi Sembra che ci sia qualcuno bloccato Che ci sia qualcosa bloccato là sotto la terra Spero che Elga arrivi presto Così potremo procedere con gli studi Randolph E andiamo perché questi stanno arrivando C'era qualcosa lì Ciao Sono io No Vaya No Dejami tranquillo No No Das hätte uns etwas Zeit erspart Nicht verstehe diese symbole nicht Ja No me toques Mi sembra di essere tornata bambina In cerca di tesori nel bosco Questo momento Mi proietterà nei libri di storie Tra i più grandi avventurieri Aia Stronza Inutile sacco di viscere Beh dai Beh dai Gli vuoi bene Poglione Uccidilo 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 Mi sta sul cazzo No 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 Mentira 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 No 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 Non sono io Uccidirei Uccidirei Gargarone Liberati Stronzo Dai per morire Elga Lo sappiamo tutti Facciamo un conto alla rovescia Da dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Re Due Uno Morta No Ahi sta Cassi Lo sapevo che moriva Eeeh Aia Liberty Veloce 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 Vlascovic Cazzo Dai Allora ho visto Che è cieco Da quello che dicevano Quindi la vita La lasciamo qua E bisogna sparargli In bocca Per il danno Massimo E O fora Lo sapevo che è Mi ha preso perché sì, no? Grazie a tutti. Allora, io andrei giù a sto punto che forse è più facile mirarlo in bocca. E la gente consiglia uccidere i ragazzi col silenziatore. Perché tanto lui reagisce al rumore. Esatto, è lì sciotta. Non sa dove sono. Lui andrà a prenderseli giusto perché stanno facendo rumore ragazzi là, eh? Stiamogli distante i ragazzi. Esatto. Quello devi fare, bravissimo. Io non sto facendo rumore, non ce l'ha con me, non ce l'ha con me. Ne ho ancora di questa? Sì, uno. Vabbè, andiamo giù, usiamolo. Mi hai... Sì, vabbè. Tu giusto prendi dove sono io, chiaramente, no? Sempre in bocca riesce a prendermi comunque, è incredibile. Sì, vabbè, non ce l'ha con me. Ok, ok, bene, con calma. Sì, vabbè, non ce l'ha con me. Sì, vabbè, non ce l'ha con me. Vai! Ananna! Ognu! Mamma mia, ragazzi, che animo, che difficile che è stato. Il dossier di Elga, Olga, Elga, maledetta, dov'è? Ciao. È stato bello spararti in pazza. Non hai mai avuto il controllo? Hai aia, Blaskovic, adesso? Porca puttana. Pezzi di nazista ovunque. Eccolo. Chi è questo? Forza, dammi una mano, pigroni. Chi è rimasto un coglione? Beh, almeno lei ce l'ha fatta. Una cosa positiva. Ehi, Blaskovic, ascolta. Sì. Non si cambia ciò che è successo. Ovviamente. Ma tu hai fatto un ottimo lavoro trovando quel dossier. E ora abbiamo la posizione del complesso di Death Center. Eh? Ce l'abbiamo. Ti rendi conto. Sì. Mi rendo conto. Faccio un sogno, capiti? Ma cosa di importante. Svanisci al risveglio. Non c'è tempo per i sogni, suppongo. Ora, dannazione. Non ho pisciato prima di partire. Perché non me l'hai ricordato? Non vai a cagare. Pisciati addosso, tanto. Ci siamo quasi. Hai ucciso quella brutta bestia. Sì. Da solo anche. Immaginavo. Potrebbe essere l'ultima possibilità per rovesciare l'impero nazistico. È tempo di darsi da fare, eh? Già, il mondo conta su di noi e tutto il resto. Senza pressione. Tranne per la mia donnata vescica. Piscia qua, tanto. Il mostro non muore mai, non importa quante volte lo uccidi. Già. Cambia pelle e assume altre forme. Sento il peso del mondo che mi opprime. Cerco di portarlo comunque. Per l'ultima volta. Poi potrò riposare. Magari Elga poteva parlare un po' prima, no? Non l'abbiamo neanche lasciata parlare, vabbè. Finito? Abbiamo finito il gioco, ragazzi. Che dire di questo gioco? Mi è piaciuto molto. E cosa vuol dire, ovviamente? Abbiamo portato All Blood. Continueremo, porteremo gli altri, ovviamente, ragazzi. Sapete che sono quattro, almeno quelli... Penso con Blaskovic tutti e quattro. Correggetemi se mi sbaglio e salto questo perché se no mi salta il copy e non vogliamo. Bene. Che dire, ragazzi? All Blood abbiamo completato. Bellissimo gioco. Ve lo consiglio vivamente. Se non l'avete ancora giocato su Game Pass, ce l'avete gratis. Quindi mi raccomando, insieme a tutti gli altri di Wolfenstein. Quindi mi raccomando, un motivo in più per avere il Game Pass. Non sponsor del canale. Speriamo prima o poi lo sia. Ma comunque, proprio per scelta personale mia, ve lo consiglio vivamente. Perché comunque per, mi sembra, 15 euro al mese avete un'infinità di giochi. E adesso ne stanno iniziando a mettere molto belli di giochi. Interessanti. Tripla addirittura, oserei dire. Quindi ragazzi, grazie per aver vissuto questa avventura con me. Ci vediamo in una prossima serie. E tenetevi sintonizzati perché sicuramente porteremo anche gli altri Wolfenstein. Quindi vi aspetto numerosi nel canale, ragazzi. Ci avete questo e più di 500 video da guardare. Quindi il tempo è quello che vi serve. Video ne avete a volontà. Quindi ragazzi, vi dico un bacione. Un pura vida. Mi raccomando, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Mettete un bel mi piace. Commentate. Condividete. Coltiviamo sto canale, ragazzi. Non mi stancherò mai di dirvelo. Aiutatemi a crescere, ragazzi. Grazie della visione. E ci vediamo in una prossima serie, ragazzi. Ciao, ciao.